Buongiorno, buona Pasqua e benvenuti al nostro Tg del mattino. Parliamo ancora di sanità e in particolare dell'ospedale di Agnone perché ci sono delle novità in vista della discussione del ricorso al Tar prevista il mese prossimo. Il Comune ha presentato una perizia sui tempi di percorrenza dalla cittadina alto molisana all'ospedale più vicino, quello di Isernia, che dovrebbe tra l'altro consentire anche di ottenere una deroga al decreto Balduzzi. Sentiamo Sergio Di Vincenzo. Mentre in tutti gli ospedali molisani tira area di pessimismo e di tagli più o meno imminenti, Agnone continua con un pur cauto ottimismo la sua battaglia in difesa del caracciolo e lo fa impegnandosi su più fronti. Dopo aver incassato un via libera di massima sull'accordo di confine con la regione Abruzzo, sancito proprio ad Agnone durante un recente incontro al teatro italo-argentino, l'attenzione torna a concentrarsi sul ricorso al Tar, la cui udienza di merito è fissata per il 14 maggio. Stavolta il comitato articolo 32 non sarà solo. Dopo anni di battaglia in solitaria davanti ai giudici amministrativi, nei mesi scorsi è stato infatti affiancato dal Comune, che ha a sua volta presentato un proprio ricorso. I due procedimenti, ora unificati, danno maggior forza ai ricorrenti, anche perché attraverso l'Avvocato Lisa Di Nucci è stata depositata della documentazione destinata a giocare un ruolo decisivo non solo a Campobasso davanti ai giudici del Tar, ma anche a Roma, al tavolo tecnico del Ministero della Salute. In particolare si parla di una perizia tecnica di parte sui tempi di percorrenza, curata da un esperto del settore dei trasporti, l'ingegnere Nino Di Bitonto, che dimostra in maniera oggettiva e inequivocabile, ha commentato il vice sindaco di Agnone Maurizio Cacciavillani, che il San Francesco Caracciolo ha tutti i requisiti per essere configurato quale presidio di zona particolarmente disagiata, secondo gli standard previsti nel decreto Balduzzi. Un altro piccolo tassello ha concluso Cacciavillani in difesa del nostro diritto alla salute. Questa perizia potrebbe dunque valere doppio. Da un lato dovrebbe spianare la strada sul fronte del ricorso, sul quale i giudici in qualche modo hanno già detto la loro, concedendo la sospensiva. Dall'altro dovrebbe convincere definitivamente i tecnici ministeriali, finora un po' resti nel concedere la deroga ad Agnone. A Roma evidentemente i conti sui tempi di percorrenza li fanno con il navigatore satellitare, che di certo non tiene conto della neve, delle frane e delle strade molisane completamente disastrate. Si chiama Pasqua Solidale Croce Rossa Italiana 2015, l'iniziativa promossa in favore delle persone in difficoltà. I volontari hanno consegnato oltre 100 kg di cioccolata ai centri di cura e di accoglienza, tra cui i reparti degli ospedali e le case famiglia. Una vera e propria operazione di solidarietà che ha visto impegnati gli uomini e le donne della Croce Rossa del Comitato Provinciale di Campobasso. Non è un gesto simbolico, ha commentato il presidente Giuseppe Alabastro, ma una manifestazione coerente di ciò che significa essere oggi volontari della Croce Rossa. Oggi e domani diversi musei, monumenti e aree archeologiche aperte in Molise, come disposto dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. Vediamo l'elenco dei luoghi d'arte aperti in questo servizio. Come ogni anno il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali ha disposto l'apertura straordinaria di musei, monumenti e aree archeologiche nelle giornate di oggi Pasqua e domani Pasquetta. Due giorni di festa e pausa da lavoro, in cui chi vuole può dedicarsi alla cultura, la scoperta o riscoperta e approfondimento delle innumerevoli bellezze artistiche e storiche che rendono unica la nostra Italia. Anche in Molise, gli organi periferici del Ministero hanno dunque disposto l'apertura ai visitatori di diversi musei, monumenti e aree archeologiche per la Pasqua con ingresso gratuito e il lunedì dell'Angelo, in questo caso rispettando il normale piano tariffario. Visite consentite a Campobasso al Museo Sannitico sia oggi sia domani dalle 9 alle 14.30 e dalle 15 alle 17.30, al Museo Pistilli invece oggi dalle 8 alle 14 e domani dalle 8 alle 19. A Gambatesa oggi Pasqua e domani Pasquetta apertura mattutina per il Castello di Capua dalle 8 alle 14, così come a Larino per l'Anfiteatro Romano dalle 8.30 alle 13.30. Visite consentite per l'intera giornata sia di oggi sia di domani invece dalle 9.30 alle 14 e dalle 14.30 alle 18.30 a Sepino, all'area archeologica e al Museo di Altiglia. Per gli appassionati di storia e architettura medievale, mattinate di Pasqua e lunedì dell'Angelo alla scoperta del complesso monumentale di San Vincenzo al Volturno dalle 8 alle 14.00 per l'intera giornata di oggi e domani dalle 9 alle 19.00 aperto il Museo del Paleolitico a Isernia, dalle 10 alle 15.30 invece l'area archeologica di Pietrabondante. A Venafro oggi dalle 8 e un quarto alle 19.30 e domani dalle 8 e un quarto alle 13.45 aperto il Museo di Santa Chiara, mentre sia oggi sia domani dalle 8 alle 19.00 visitabile il Museo del Castello Pandone. Intanto a Campobasso visitabile anche la mostra dedicata a Giorgio De Chirico, alla ex GIL. Oggi è apertura dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 21.00. Domani, ultimo giorno, orario continuato dalle 10 alle 20.00. È tutto per la nostra informazione, adesso la rassegna stampa. Con Gianfrancesco Iacaruso in regia vediamo subito come titola il giornale del Molise.it, luoghi d'arte aperti anche in Molise a Pasqua e Pasquetta, l'iniziativa del Ministero dei Beni Culturali. Poi ancora riapre al pubblico, con tante novità, il Museo Civico di Isernia. Fondovalle Sangro, la superstrada della vergogna, automobilisti inferociti, troppe buche, qui si rischia la vita. Ancora gli incappucciati alla processione del Cristo morto a Isernia, il Teco Vorrei e le emozioni della processione del Venerdì Santo a Campobasso. Biomasse a Campobasso, i cittadini pronti alla mobilitazione, nasce il Comitato. Ancora riforma del lavoro, la CISL rilancia le priorità, impegno per tutelare i lavoratori precari. Altre notizie, mine anti-uomo, anche a Campobasso celebrata la giornata internazionale con un incontro del Rotaract. Termoli, appaltati i lavori per il secondo lotto del lungomare nord, progetto da 3 milioni di euro. ITRL-IKF spinge per far entrare il polo tessile molisano nel progetto Casa Italia. Credito alle imprese, l'Aggiunta regionale approva i regolamenti, 8 milioni a disposizione. Del Rio, ministro delle infrastrutture, l'Ira di De Matteis ha affossato le province. Frane e Molise, Venitelli chiede l'intervento del governo. Ci sono poi ancora editoriali, idee e opinioni e altre notizie dalla regione, ma anche dall'Italia e dal mondo. Vediamo adesso come titola primo piano Molise, vertenze al palo, Pasqua amara per tanti lavoratori molisani. L'accusa di Wiltux e Filcams, la politica non riesce a dare risposte. L'emergenza occupazionale non viene messa in cima alle priorità. Festa senza stipendio anche per i dipendenti di ATM e Sati. Poi la protesta a Campobasso Biomasse nasce a un comitato per impedire la realizzazione di una centrale a Mascione. I timori dei residenti della contrada che ieri mattina hanno manifestato il loro dissenso. Siamo preoccupati per quello che verrà bruciato, dicono. L'appello del comandante di Isernia, la soppressione del corpo forestale, San Marone, dice non ci sarà alcun risparmio. Da Venafro, comunità montana sfrattata, nessuno vuole ospitare l'ente. Maledetta primavera, pioggia, vento e possibili nevicate, ponte all'insegna del maltempo. Boiano, mura medievale a rischio crollo, paura a Civita superiore. La cronaca di Agnone, i ladri tornano nella tabaccheria già ripulita due mesi fa. Notizie anche dall'Abruzzo, da Vasto, botte al bar e droga nel cestino dei rifiuti, attività chiusa per 15 giorni. Per quanto riguarda lo sport, Serie D, Di Gennaro ripensa la San Benedettese, tutta colpa del gol su palla inattiva, dice. Calcio a 5, sorride solo la win ADV, il Venafro perde e chiude al quinto posto. Per la pallacanestro Dynamic parla coach Mascio, ottime risposte dai nostri giovani, dice. E questo è primo piano Molise, adesso passiamo a vedere la prima pagina del quotidiano del Molise. Lavoro, troppe vertenze, Pasqua, Amara, anche qui c'è questo titolo in evidenza. Situazione complessa, Corai, Molise, Dati, Albino, ITR e GAM, ferme al palo. Oggi l'arcivescovo Bregantini celebrerà messa per i detenuti del carcere di Campobasso. Il comitato spegne le biomasse ma tiene accesa la protesta, il titolo in taglio alto, Campobasso. Ieri sit-in organizzato a Mascione dalla UGL, no alla centrale, sì alle rinnovabili. Scampagnate in bilico a Pasquetta si battono i denti ma un po' di relax è salutare. Campobasso, affari di guerra dietro le mine anti-uomo. Ieri giornata internazionale di sensibilizzazione con il Rotaract della Capoluogo. Isernia, Borsa e Lavoro, bando da rifare, revoca in autotutela. Vediamo le altre notizie. Investitura nel Dipartimento Politiche Agricole. L'onorevole Venitelli incassa una prestigiosa delega alla pesca. Poi nell'ambito di Cammina Molise e gli italiani in Argentina consolidano il legame con la terra d'origine. Vediamo adesso le notizie di sport. Serie D, Marinucci ci aspettano 5 finali. Scudieri out per squalifica, sempre per la serie D e calcio. Termoli, mister Di Meo qui per centrare la salvezza diretta. Calcio a 5 di serie B. Nell'ultima giornata vince solo la win di V, Venafro e Isernia, K.O. Per il tennis internazionale d'Italia c'è anche l'arbitro campobassano, Iacobucci. I quotidiani nazionali adesso. Partiamo con la Repubblica. Confessa il manager della Coop rossa, Palti, così pagavamo i politici. Napoli, Simone per 5 ore da IPM, favori e consulenze fittizie. Il generale Adinolfi, i miei rapporti con il PD. Poi la manovra, i sindaci in rivolta, tagli inaccettabili. Renzi, pil vicino al più 1% e le tasse caleranno. Il reportage Kenya, la furia degli Shabab, stermineremo tutti i cristiani, dicono. E poi quest'altra notizia, vergogna, ultrastriscioni contro la madre di Ciro, esposto in curva durante Roma-Napoli. La donna non sanno cosa significa perdere un figlio. Vediamo il Corriere della Sera adesso. Così corrompevo i politici. Anche qui c'è questo titolo in evidenza. Tangenti appalti. Il manager collabora con i magistrati false consulenze per versare mazzette. Il verbale di Simone, l'uomo della Coop, arrestato con il sindaco di Ischia. La superbomba degli americani per far rispettare i patti all'Ira negli Stati Uniti. Hanno Big Blue, così si chiama, una superbomba in grado di distruggere bunker e gallerie scavate nei fianchi di una montagna. E poi c'è quest'altra notizia, video, un liceale racconta così la sindrome di Down. Vi presento Giovanni, mio fratello. Passiamo a vedere il giornale. Ecco le foto del massacro, la via Crucis Cristiana. Guardare in faccia l'orrore del Kenya è un dovere, scrive il giornale. E anche il Vaticano invita a reagire. Gli jihadisti annunciano preparatevi a un bagno di sangue. Provincia e altri problemi risolti a parole. Governo di annunci. Vedete qui il box. L'articolo è a firma di Vittorio Feltri. Passiamo a vedere Libero. Buio fitto in Forza Italia. Titolo con gioco di parole. La rivolta dei nani. Il Capataz pugliese insulta Berlusconi e il partito. Così scrive Libero. È chiuso nel bunker. Non può far fare le liste a certa gente. Scoppia il caos con una serie di aspiranti fini che vanno all'attacco. Ma Silvio ordina. Non reagite. Da Libero passiamo a vedere il fatto quotidiano. Expo i costi e i tempi raddoppiano e l'appalto vince il premio velocità. Il cantiere per ripulire l'intera area doveva essere chiuso nel novembre 2013 e costare 58,5 milioni. Se ne spenderanno invece 127,5. E la consegna ancora non c'è. La CME però ha già preso il bonus per la rapidità. Mode violente massacrato in strada e lo chiamano gioco vittima del knock-out game. Riccardo, 22 anni, studente al Politecnico di Torino, tornava da una festa di laurea quando è incrociato una banda di 18 anni che lo hanno mandato all'ospedale a suon di pugni in faccia. Vediamo come titola adesso la stampa di Torino. Un giorno nella chiesa dei poveri di Papa Francesco, il nuovo corso, vescovi e guardie svizzere ad assistere i clochard. C'è questa bella foto di Papa Francesco, l'incontro appunto del Papa con i clochard nel giorno del suo settantottesimo compleanno. Pasqua di paura per i cristiani di Mezzomondo dopo il massacro nella campus del Kenya da Nairobi a Lagos, rischio attentati. Questa era la stampa, il tempo. Guerra tra cricche per l'immondizia romana e i verbali, così mafia capitale e la Coop CPL litigavano per piazzare il loro amministratore delegato. Il manager arrestato ammette, il sistema corruttivo funzionava con consulenze false e subappalti. Il grande disastro delle cooperative fallite, il dossier, in dieci anni ne hanno commissariate 1500 solo a Roma, titola il tempo. Vediamo avvenire il quotidiano dei vescovi. La sfida di Pasqua, essere testimoni. Minaccia jihadista, in Kenya sarà guerra orribile e a Erbili i profughi iracheni sognano il ritorno a casa con la resurrezione di Gesù. Scrive avvenire una nuova speranza per l'umanità. Francesco dice entrare nel mistero ci chiede di non avere paura della realtà. L'Aquila prova a volare ancora, sei anni fa il terremoto in città, si moltiplicano i cantieri. Chiudiamo con la gazzetta sportiva. Scatto Milan-Strazio-Inter, una città e la corsa dimezzata all'Europa. Questo è il titolo, rossoneri in crescita, Cerci si sblocca, Menez tocca quota 16, 2-1 al Palermo, la vittoria premia, gli sforzi di Inzaghi, la rincorsa continua. Nerazzurri in punizione contro l'orgoglioso Parma, altra prova penosa dell'Inter, soltanto 1-1, San Siro fischia, Mancini duro, Pasqua di lavoro, 8-30 in campo. Poi le altre partite, il secondo posto avanti Pjanic, ciao Napoli, derbissimo Roma-Lazio, dunque ha vinto la Roma. La vergogna olimpica in curva, striscioni offese alla madre di Ciro. Il sorpasso, tanto Salah sulla viola, adesso è quarta, Bagno-Samp e lo scudetto. Re Tevez, Pereira, Juve, ormai ci siamo, ieri la vittoria sull'Empoli per 2-0 con la rete di Tevez che torna capocannoniere con 17 reti. E con la Gazzetta Sportiva si chiude la nostra rassegna stampa, prossimo appuntamento con l'informazione di Telemolise come sempre in diretta alle 14 con il TG. Buona giornata e ancora buona Pasqua a tutti. Grazie a tutti.